In attesa che l'accesso all'unica strada di via puntale venga messa in sicurezza dopo il crollo del muro di sostegno, l'amministrazione comunale ha realizzato in poche ore un'altra strada per garantire una via di fuga in caso di nuovi crolli, ma a buona parte dei residenti del villaggio, a monte del viale Principe Umberto, non sono affatto soddisfatti della soluzione realizzata in poche ore dai tecnici di Palazzo Zanca, con un provvedimento del commissario Croce che ha letteralmente bruciato i tempi. La nuova via che collega puntale Arena con la via San Corrado di Gravitelli garantisce sì una via di fuga, ma una pendenza del 20%, davvero difficile da percorrere, impossibile per una persona anziana farlo a piedi, rischio di caduta in discesa, fatica insostenibile inselita. L'avvocato Saro Cucinotta rappresenta il gruppo di residenti che questa mattina hanno manifestato con l'appoggio del consigliere comunale Giuseppe Chiarella. Per quanto riguarda la pista di emergenza, lunedì chiederemo al Comune tutti gli elaborati che riguardano sia di natura tecnica che di natura finanziaria che di natura amministrativa che riguardano questa pista. Li faremo sottoporre ad un nostro perito e vedremo se era necessario farla in questi termini, con questi esforzi di spesa oppure se si poteva fare differentemente. Questa poi lo valuteremo ed eventualmente vi sarà una responsabilità amministrativa o contabile di chi ha posto in essere degli atti che non fossero conformi a legge. Seconda questione, mentre si è intervenuto a fare questa bretella che noi non contestiamo, però non si è intervenuto nel punto dove viene il pericolo. I signori tecnici comunali ci dovrebbero dire come mai si è intervenuto a fare una bretella mentre non si è intervenuti per mettere in sicurezza la zona dove vi è stato lo smottamento. Questo è perlomeno illogico perché se lo stato di pericolo vi era e allora dovevano intervenire subito, se lo stato di pericolo non vi era non si capisce perché l'ordinanza con cui viene ostacolato, il traffico veicolare. Quindi lo dicano pure, può essere considerato quello che dico la notizia criminis, chi deve intervenire interverrà. Terza questione, alcuni cittadini del quartiere domani non vogliono fare una protesta non andando a votare, vogliono esercitare il loro diritto di voto. Poiché non possono andare con i mezzi veicolari hanno chiesto all'amministrazione comunale di essere messi in condizione di votare. Aspettiamo ancora una risposta dell'amministrazione comunale del modo con cui questi cittadini dovranno raggiungere il proprio seggio. È evidente che se questi verranno privati del diritto elettorale vi saranno della responsabilità di chi non ha consentito loro di esercitarlo.